A Samarate al via la nuova stagione del Caffè Teatro Comedy Club. Si, si partirà sabato 9 settembre con Max Piso, poi arriveranno Deborah Villa, arriverà Leonardo Manera, arriveranno Flavio Reglio, Impastato e tanti altri comici e tanta musica. Poi ci sarà anche molta stand-up, soprattutto la potremo trovare in alcuni sabati, ma soprattutto al giovedì. Quindi questa nuova forma di cabaret nata in realtà negli anni 50, dove il grande maestro si chiamava Lenny Bruce e c'è tutta questa schiera di nuovi giovani comici che appunto approcciano questo nuovo tipo di linguaggio, un pochettino dissacrante e molto borderline ed è il nuovo che sta avanzando. Tutto questo lo potete trovare sul sito del Caffè Teatro, caffeteatrosamarate.it